I nostri teoremi demoliscono il concetto di natura intrinseca delle cose, scomponendo ciò che nasce unito. Ma questa è l'analisi. Questa è la scienza. Il mio nome è Enzo Mensa e ho passato tutta la vita a pensare a cosa accadrebbe se gli assiomi di Peano su quelli poggi alla matematica fossero errati. Io ho scoperto che esiste una piccola probabilità che tali assiomi non valgano e in termini fisici corrisponderebbe all'esistenza di un pianeta dove questi assiomi possono essere confutati. Sto costruendo una macchina che mi ci può portare. Ma sei sicuro di questa ricerca? La scienza si basa sulla matematica e i numeri a pro volta si basano su gestioni di Peano. Una spada non può ottenere in se stessa. Ma può cambiare le sorti del cavaliere se non prima. Ma è un percorso intelligente e più profondo. La macchina per viaggiare utilizza uno dei concetti più grandi che l'uomo abbia mai inventato. Un processo che unisce filosofia, matematica, etica, religione. Una meravigliosa cattedrale del pensiero. Il calcolo differenziale. Professore, ho costruito la capsula di pressione. Il problema è che questo affare non può muoversi, è solo un calcolatore nucleare. Ma poi da calcolare che cosa? Il picco di massimo relativo. Cosa? Questa funzione rappresenta la distribuzione di non matematica nell'universo. Il punto in corrispondenza del quale si trova il massimo la macchina lo deriva. Bene, questo picco l'ho trovato confutando gli assiomi di Peano ed è un punto nell'universo. Il pianeta di Peano su cui non regna la matematica. E' eccezionale! E qual è il valore di questa funzione? Figliolo, io ho fatto matematica. Tu che fa cosa hai fatto? Io? Io ho fatto ingegneria. Bene. Allora non fare domande. E torno alla papà. Assiomi di Peano! Sono cinque assiomi ideati dal matematico Peano. Esiste un numero naturale zero. Teorie filosofiche dimostrano il contrario e la stessa fisica ammette le conservazioni e l'assurdità del numero zero. Ogni numero è un successore, ma a volte insieme di situazioni diverse danno esiti uguali. Le successioni sono tanto valide quante artifici. Similmente confuto anche il terzo e il quarto assioma. Il quinto è il principio di induzione, il più difficile da confutare. Ecco perché voglio andare sul pianeta di Peano. Sì, ma a me cosa vede a fare? Io sono in là dell'ingegneria. Chi sei? Sono la personificazione delle tue paure di fallire. Io non ho paura di fallire. Il mio progetto è finito e la mia intuizione è dimostrata. Allora, sono la personificazione delle tue contraddizioni. E adesso? Hai paura? C'è qualcosa che si le mie sogni la notte. Sono quasi giunto alla mia meta, devo solo... Qualcosa sto cercando di avvertirmi. Forse perché senti che i risultati che otterrai non saranno quelli aspettati. Proprio per niente. Devo partire subito. Non farlo. Non è Peano il problema. Devo raggiungere il pianeta di Peano. Partirò attraverso lo spazio con questa macchina. E appena avrò toccato terra, dovunque toccherò, sarà il pianeta di Peano! Vieni con me. Ti stavamo aspettando. Principio di induzione. Ogni sotto insieme di numeri naturali che contenga lo zero e il successore di ogni proprio elemento coincide con l'intero insieme di numeri naturali? Principio di induzione. Osserva i miei capelli. Io sono Castano e anche mio padre, quindi io ho ereditato il suo gene dominante. Per induzione, se prendiamo un capello marrone e poi ne prendiamo un altro, saranno tutti marroni. Ma guarda bene. Un capello bianco. Gli assiomi perdono significato. È tutto così ovvio. Ma perché non ci avevo pensato quando ero sulla... Può essere. Tu sai... Hai immaginato un pianeta dove la matematica non funzionasse? Ma hai confutato i tuoi assiomi basandoti sulle tue conoscenze matematiche. Avevi già immaginato il pianeta di Peano e adesso l'hai raggiunto. Ma quanto lontano credevi di poter arrivare? Il pianeta di Peano è la Terra.